Questa sera abbiamo il piacere di avere con noi Jean-Michel Wilmotte, è un architetto che ha un settore col quale fa proprio l'industrial design. Vorrei far vedere il lavoro che ho realizzato, come vedrete la luce è molto importante nel nostro lavoro perché effettivamente è quello che mette in evidenza, quello che valorizza l'architettura. Allora, architettura e luce, questo è il tema. Occorre sapere che tutto questo edificio è illuminato con fibra ottica. Qui effettivamente il colore è interessante, questo grigio blu è un po' la nostra firma. La luce è sempre presente, vedete? La luce crea delle sequenze, degli elementi fondamentali. Quest'edificio era abbastanza importante, con una forma particolare della topografia del luogo che ha decretato la natura dell'edificio. Questo è un edificio molto semplice, in vetro. Vedete qui si gioca davvero sulla protezione della luce, trasparenza, è un luogo molto bello. Connubio di luce e design, simbolo della nostra riconoscenza per una collaborazione che contribuisce ad arricchire la cultura della luce e direi arricchire anche il mondo. Grazie a te Gianniscello. Grazie a te Gianniscello.